Viva la box! Resta il numero uno per me. Mike Tyson resta il numero uno. 31 anni più giovane e restare in piedi non è da tutti, è un extraterrestre. Per me Mike Tyson resta il numero uno di tutti i tempi. Solo Mohamed, solo Mohamed Ali. La box è meravigliosa, è meravigliosa, è un altro dei miei sport preferiti. Perché quando stai lì sul ring, io ho fatto 12-13 match, quando stai lì sul ring, prima di salire ti senti, poi appena sei lì sopra, scende, scende e vedi il mondo dall'alto. Qualsiasi cosa tu faccia, vinca, perde, pareggi, vedi il mondo dall'altro e hai anche delle risposte. Per esempio, siccome è da un po' che non faccio un match, io sto cercando una risposta e la voglio perché è da un anno e mezzo che la cerco. Io ancora non so come mai un anno e mezzo fa sono andato in coma con la meningoencefalite, nessuno ancora mi ha detto come l'ho presa. Mi hanno detto solo che è un miracolo che io sia vivo. E allora poi dopo non vi lamentate anche, signori che andate in tv a parlare di medicina, se la gente comincia a farsi dei sospetti, perché abbiamo bisogno di risposte e ce le dovete dare. Certo la medicina non è una scienza perché non c'è sempre un rapporto causa-effetto, quindi in realtà da un punto di vista anche semantico ma puramente logico non la possiamo definire una scienza. Io sono stato salvato dall'intuito di una dottoressa, se no mi finivano di ammazzare al pronto soccorso perché non capivano, sono stati bravissimi e io li devo la vita ai medici eccetera eccetera. Però dopo un anno e mezzo ancora non mi hanno detto come io ho preso staccacchio di meningoencefalite. Tre ipotesi, tre ipotesi. La prima è la ipotesi X, cioè boh, cioè boh. Abbiamo fatto 28 approfondimenti e non abbiamo trovato insetti, ceche, zeche. Quindi la prima ipotesi è l'ipotesi boh. La seconda ipotesi è che qualcuno mi abbia cercato in qualche modo con gli strumenti sofisticati, degli apparati di intelligence magari non italiani, abbia cercato di farmi fuori perché stavo per cominciare a lavorare a un docufilm sul rapimento e l'uccisione di Aldo Moro con delle cose assolutamente esclusive e qualcuno dice ti hanno fatto secco. In effetti è saltato il contratto perché io ero in ospedale e quindi oltre al danno anche la beffa. Hanno fatto un esposto, a quanto pare qualcuno ha indagato, sta indagando, non è ancora stato archiviato così io non saprò mai la verità se davvero hanno cercato di farmi fuori comunque un agente segreto, un generale di corpo d'armata e un luminare delle neuroscienze sostengono che io abbia subito un tentato omicidio, infatti l'esposto parla di tentato omicidio e atto di terrorismo, denuncia contro ignoti e che secondo questo esposto sarei ancora in pericolo di vita. Terza ipotesi, quella più fastidiosa che non bisogna neanche pensare perché politicamente corretto lo impedisce, è che ci sia un effetto così detto, un effetto avverso alla vaccinazione anti-Covid perché nella letteratura scientifica comunque ci sono dei casi di encefalite provocati dalla vaccinazione anti-Covid, specialmente di due case farmaceutiche famose. Però non sarebbe il mio caso perché questi casi di encefalite si sarebbero verificati tra i due e i 16 giorni dall'avvenuta vaccinazione. Io mi sono vaccinato tre volte e però la meningoencefalite mi è venuta dopo un anno di distanza dall'ultima vaccinazione. Però il fatto che nessuno mi dica è che anche un famosissimo professore che di questa materia si impegna ed è sempre sui social, in tv che io conosco bene perché gli ho pure fatto gratuitamente un'intervista pubblica ai tempi, gli ho scritto tre volte e non mi ha mai risposto. L'unica risposta che mi diede è sono contento che tu adesso stia bene ma quando gli ho chiesto secondo te che cosa mi è successo non mi ha risposto. Poi ovviamente questo non può che creare dei sospetti. Io ovviamente non la prendo molto in considerazione a questa ipotesi ma quello che voglio dire io è che se uno non risponde, se uno si incazza quando qualcuno tira fuori il discorso degli effetti avversi, se uno vuole impedire di parlare di questa cosa e ti ha dita come scemo non è il mio caso perché io non ne parlo mai, beh è chiaro che viene sospetto. Quindi date delle risposte e soprattutto io voglio sapere dopo 15 mesi, visto che fra 10 giorni ci avrò un'altra visita di controllo, voglio sapere perché io un anno e mezzo fa ero in coma e mi avevano dato per morto. Grazie, buon weekend.